Dieci vittime di incidenti stradali avvenuti in Puglia nelle ultime 24 ore. Nello scorso weekend sulle strade pugliesi sono morte dieci persone, oltre alle cinque, tra le quali una bambina di tre anni, che si sono registrate nello schianto avvenuto sabato sulla Brindisi Bari e ad un uomo deceduto sempre sabato a Palagiano, nel Tarantino. Ieri sono morti due fratelli di 16 e 13 anni, Rossella e Vincenzo Calabrese di Gravina, in un incidente avvenuto sulla provinciale 230 per Spinazzola. L'auto, guidata dal padre di 47 anni per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un furgoncino. Ferita la sorella gemella del 13enne e la mamma. Inoltre, sempre nella notte, tra sabato e domenica, in un altro incidente stradale, è morto un bambino di nove anni. L'impatto è avvenuto nei pressi di Minervino Morge. Il piccolo viaggiava con i genitori e il fratello più piccolo a bordo di una Volkswagen Passat, che per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strada. Per il bambino non c'è stato nulla da fare. Il lesi, il padre e la madre, l'altro figlio, è ricoverato all'ospedale Giovanni XXIII Simo di Bari. Indagano i carabinieri della stazione di Minervino Morge. Infine, ieri sera, a tarda ora, è morta in un incidente stradale avvenuto nei pressi di Porto Cesareo una donna di 81 anni che si trovava seduta al lato passeggero di una Fiat 500 nera condotta dal marito.